Teatro di quello che, secondo la Procura per i minorenni, un vero e proprio episodio di violenza sessuale è una scuola superiore della città. L'episodio sarebbe avvenuto in un'aula vuota della scuola, perché gli altri ragazzi della classe erano andati in laboratorio. La studentessa sarebbe stata costretta, secondo quanto denunciato, ad avere un rapporto con due ragazzi che l'avrebbero minacciata, dicendo che avrebbero fatto male alla sorella. Nessuno dell'istituto superiore si sarebbe accorto quanto stava accadendo in aula. È stata la ragazza a raccontare ai genitori di quello che era successo a scuola. Dopo la presentazione della denuncia, la Procura del Tribunale per i minorenni ha aperto le indagini, disponendo all'audizione di alcuni studenti che conoscevano sia la ragazza che i due giovani, finiti sotto accusa. Alla fine l'inchiesta è sfociata in un processo. I due studenti sono accusati di violenza sessuale. L'ultima udienza del processo si è celebrata martedì. Dinanzi al giudice hanno deposto il preside dell'istituto, a cui è stato chiesto se era il corrente dell'episodio prima che i genitori sporgessero denuncia, e anche un rappresentante degli studenti.